Un tuo commento sulla perdita, almeno temporanea, di Arezzo Wave. Va a vostro vantaggio oppure comunque una grossa perdita per il nostro territorio? Allora in questo caso ti rispondo più da Aretino che non da organizzatore di eventi perché è in quell'ambito che mi sento di rispondere. Da Aretino secondo me è una perdita nel momento in cui si parla di Arezzo Wave, vecchio stile, perché era veramente un festival internazionale, un brand che nel mondo veniva ricordato e citava Arezzo come culmine e centro d'Italia. Da questo punto di vista è sicuramente una perdita. D'altro canto bisogna capire che i modelli di festival, i modelli di proposta culturale sono molto cambiati negli ultimi anni, in particolare per le cose che si diceva prima, l'impossibilità delle istituzioni di sostenerli in maniera veramente forte. E quindi si presuppone un cambiamento di scenario che in alcune realtà magari fuori Italia è stato già affrontato da tanti anni. In Italia vediamo come i maggiori eventi ormai sono diventati o a biglietto molto costoso o con formule ibride che però non funzionano tanto secondo me. Per cui mi sento di dire è una perdita, però bisogna anche che torni a essere quello che era Arezzo Wave, nel senso un evento veramente importante con un modello di festival però centrato e chiaro anche al pubblico.